Ciao a tutti e ben ritrovati alla seconda stagione dei podcast di Libri di Montagna, brevi podcast in cui vi racconto i libri di montagna che mi sono piaciuti di più. Vi ricordo che come sempre per ogni vostra domanda o richiesta di approfondimento potete scrivermi più che volentieri al mio profilo Instagram Libri di Montagna. Ho sorriso questa volta quando ho detto brevi podcast perché avete visto che questo podcast tanto breve non è. D'altronde ragazzi Walter Bonatti non è un big, è un unicum in tutta la storia dell'alpinismo, è una persona completa sia dal punto di vista sportivo perché è stato un grandissimo alpinista ma è stato anche un esploratore eccellente ma soprattutto anche perché è stato un grande maestro per quello che riguarda il pensiero e tutte le riflessioni che lui ha fatto sul senso di sé e sul relazionarsi con gli altri. Insomma parlare di Bonatti nell'alpinismo è come parlare di Dante Alighieri nella letteratura italiana, di Beethoven nella musica, di Van Gogh nella pittura. Insomma persino per un amante della sintesi come me lo sono perché mi annoio con grande facilità per cui ho bisogno di cose brevi per tenere la mia attenzione focalizzata. Ecco insomma persino per persone amante della sintesi come me mi sono resa conto che liquidare o cercare di impacchettare Walter Bonatti in brevi podcast sarebbe stato non solo non rendergli giustizia ma non permettervi di capire la grandezza di questo uomo. Per cui grande eccezione soltanto per Walter Bonatti dividerò diciamo il suo racconto in due podcast. Un primo in cui vi espongo la vita e i due incidenti più grossi che hanno poi determinato il pensiero di Walter Bonatti nel prossimo invece affronteremo il suo pensiero per intero è una parola grossa comunque insomma vedremo le cose che lui ha pensato. Se non lo conoscete ancora se siete agli albori agli inizi della scoperta della letteratura di montagna per avvicinarvi a Walter Bonatti ho pensato di proporvi il libro di copertina che è stato scritto da Rossana Podestà l'ultima compagna di Walter Bonatti sono stati insieme gli ultimi 30 anni delle loro rispettive vite voi sapete lei era un'attrice molto famosa e molto bella si sono incontrati più o meno negli anni 80 avevano sui 50 anni tutti e due lei l'ho amato moltissimo ecco lei ha messo insieme questo libro di ricordi ma anche di ricordi personali perché comunque l'ha scritto lei ed è un libro facile vi spiegherò perché dico facile diciamo sembra un po come un catalogo di mostra quindi alla copertina rigida è molto grande carta patinata tante foto grandi tante di scalì e testi veloci brevi però appunto permette un avvicinamento facile diciamo così semplificato a Walter Bonatti che come vi avevo accennato è molto complesso molto sfaccettato dico facile perché i libri di Walter Bonatti sono stati i primi che io ho letto quando ho iniziato ad appassionarmi alla letteratura di montagna ora non che io abbia la presunzione di essere una lettrice migliore di voi però diciamo so di essere una persona che si macina un po di tutto anche se lungo anche se in lingue straniere ecco i libri di Walter Bonatti le montagne di una vita i miei ricordi insomma i libri più famosi sono stati un po difficili per me come come approccio alla letteratura di montagna in questo da questo punto di vista vi suggerisco il libro della Rossana Podestà se non avete ancora una grande esperienza in letteratura di montagna poi invece se volete potete leggere altre cose comunque non perdiamo altro tempo visto che questo podcast appunto è molto lungo e passiamo quindi a parlare insomma raccontarvi abbastanza brevemente della vita di Walter Bonatti nasce nel 1930 a Bergamo ma nel giro di con pochi anni insomma con lui va ancora all'elementare si trasferiscono tutti a Monza sappiamo pochissimo della vita privata della vita personale di Walter Bonatti sappiamo che però appunto durante l'adolescenza era un grande appassionato di ginnastica artistica o attrezzistica non so bene come si definisca quindi lui appunto si appassiona finché nel 1948 quindi all'età di 18 anni appena poco dopo insomma alla fine del secondo conflitto si iscrive al club alpinistico monzese Pelleossa i Pelleossa dove lui incontrerà il suo grande amico e compagno di scalata Oggioni che vedremo appunto che poi morirà tragicamente nella tragedia del frenè nel 1961 solo pochi anni più tardi a 21 anni Walter Bonatti che si era già cimentato con grande passione con grande ardimento e con grandi risultati nell'alpinismo compie la prima scesa assoluta della parete est del Grand Capuissant Monza festeggia questo praticamente eroe non così della della città perché effettivamente ha fatto un grandissimo esploi purtroppo la festa verrà segnata dalla morte della madre che appunto il cui cuore non regge dall'emozione e morirà entro la mezzanotte di quella sera stessa e sempre in quell'anno nel 51 che Walter Bonatti parte per il militare non ho capito se è perché è stato richiamato o se perché doveva fare il servizio che aveva 21 anni comunque di fatto la cosa importante è che lui riesce a farsi assegnare alla famosa scuola militare di Aosta che ha un corpo di alpini molto famoso insomma era quello dove aveva insegnato Castiglioni prima prima del secondo conflitto e quindi questa scusate esperienza serve tantissima Walter Bonatti per migliorare i suoi già notevoli skills in fatto di alpinismo l'anno successivo diventa operaio alla Falc ed è importante perché insomma un posto sicuro oltretutto lui riesce a farsi spostare dalla fabbrica ai lavori di ufficio ma nel giro di sei mesi lui si rende conto che non è la sua vita che stare al chiuso non fa per lui per cui si licenzia prende in gestione o compra insomma a seconda delle versioni un rifugio ai piani Resinelli che è Piri della Grigna vi si trasferisce e comincia a gestirlo nel 53 e dire gli anni è importante perché ci stiamo avvicinando al 54 l'anno della conquista del K2 ecco nel 53 lui ha 23 anni diventa guida alpina e viene nominato membro del club alpino accademico italiano nel 54 partecipa alla spedizione del K2 una grande conquista è stato il terzo 8000 dopo l'Annapurna il primo dei francesi poi dopo ci fu l'Everest e il terzo poi ne è stato il K2 si dice l'8000 più difficile tra tutti quanti ma ve ne racconterò poi dopo meglio e poi ci sarà due anni dopo il Drew e mi permetto di inserirlo anche se non voglio non voglio e non posso dilungarmi su tutto quello che ha fatto Walter Bonatti nella sua vita perché altrimenti passiamo dieci podcast però il Drew mi piace ricordarlo perché è un momento stata una cosa commovente allora il Drew è questo pilastro che c'è a Chamonix che è crollato il Pille Bonatti la via famosa di Walter Bonatti nessuno potrà mai più ripeterla ed è crollata questa via la seconda insieme al Cervino dove Walter disse voltandosi indietro guardando i suoi esploi alpinistici due momenti sono stati quelli in cui ho ricevuto una specie di stato di grazia nel senso che si era ritrovato a dove risolvere un problema alpinistico in parete notevole non riusciva a venirne a capo fino a che a un certo punto ha ricevuto una sorta di illuminazione ed è riuscito quindi a chiudere quello che era il suo progetto ecco il Drew crollerà pochi anni prima della morte di Bonatti e se voi andate a Chamonix e se siete degli alpinisti almeno una volta nella vita dovete andare a Chamonix e prendete il trenino rosso che porta su a Montainvert dove c'è la Mer de Glace e vi incamminate per quel piccolo senterino ma è ben segnalato insomma dopo circa più o meno dieci minuti credo di cammino vedrete che è stata posta proprio una piccola targa di fronte a dove c'era il Pille Bonatti dove i francesi che hanno sempre molto amato e corrisposti Walter Bonatti hanno proprio scritto le jeune Walter Bonatti a 25 anni quindi il giovane Walter Bonatti alla solità di 25 anni compiva una grandissima impresa alpinistica ma più che l'impresa appunto per me è quello che mi piace ricordare è stata la partecipazione della montagna in qualche modo insomma la voglio leggere così alla vita e alla morte di questo grandissimo alpinista. Dopo nel giro di poco va a vivere la curmaier dove lui può esercitare meglio il suo mestiere di guida alpina e nel 61 viene travolto dalla tragedia del frenè di cui vi racconterò dopo. A 31 anni e nel giro di poco cioè a 35 anni ovvero nel 1965 lui chiude con l'alpinismo estremo. Lui compie la prima solitaria e invernale sulla parete nord del Cervino e con questo lui dà l'addio ripeto all'alpinismo estremo. Lui dice alpinismo classico spero di andare avanti per tutta la vita ma con l'alpinismo estremo ho chiuso e diventa giornalista per epoca. Giornalista insomma diventa reporter. Walter Bonatti a questo punto per i prossimi 15 anni per i successivi 15 anni gira per tutto il mondo e anche qua non vi sto a dire dove è stato perché faccio prima dirvi dove non è stato ma è di poco interesse. Giusto per darvi una pietra di paragone Reinhold Messner al confronto sembra un pantofolaio. Negli anni 80 come vi accennavo prima incontra Rossana Podestà il grande amore della vita di entrambi. Staranno insieme appunto 30 anni in un modo molto all'avanguardia anche se si era già negli anni 80. Non conviveranno mai. Lei sarà di base a Roma lui di base a Milano e staranno insieme tra l'altro non in maniera scandita e ritmata cioè che non so ogni due settimane lei sale ogni due settimane lui scende. Staranno insieme quindi conviveranno vuoi a Roma da lei o al Giglio l'Argentario non mi ricordo dove dove lei avesse la casa o piuttosto nella loro casa Dubino vicino alla Valdimello insomma in Valtellina che avevano comprato e ristrutturato insieme per quel tempo di cui loro ne avevano voglia una settimana tre mesi. Dopodiché quando era a basta ciascuno ritornava poi nella propria casa e per poi rincontrarsi un'altra volta. Ci ho detto ecco Walter era spesso giù da Rossana e anche sepolto vicino a lei insomma lì di fronte al mare. Comunque insomma questa è stata la loro grande grandissima storia d'amore. Nel 2000 il presidente francese Jacques Chirac conferisce la legione d'onore a Walter Bonatti grazie anche all'intervento di Pierre Masot che è stato un suo ministro che è stato uno degli alpinisti della tragedia del Frenet. Appunto Jacques Chirac conferisce questa altissima onoreficenza la più grande che si possa dare a uno straniero a Walter Bonatti per tutto il suo impegno per salvare le vite in quella tragedia. Nel 2009 ormai Walter Bonatti ha 80 anni quindi lui riceve la legione d'onore che ne ha 70. A 80 anni Walter Bonatti riceve il Piolet d'or alla carriera che è un'onorificenza che viene conferita dalle guide de Haute Montagne di Chamonix di cui Walter Bonatti era un membro onorario comunque un membro. Ecco i Piolet d'or come sono gli Oscar della montagna la massima onorificenza che si possa avere e nel 2011 quindi pochi anni dopo Walter Bonatti muore per un cancro incurabile al pancreas morirà da solo in ospedale tra l'altro in un corridoio perché l'ospedale era pieno e non c'era posto per lui morirà da solo perché siccome non era sposato insieme a Rossana Podestà non avevano permesso a Rossana di avvicinarsi a Walter. A me risulta stranissima questa cosa perché insomma stavano insieme da 30 anni erano famosissimi tutti sapevano che stavano insieme quindi io sono anche se una grande frequentatrice di ospedali però non mi è mai successo un terzo grado ma lei in che grado di parentela è comunque di fatto questa è anche la versione che Rossana Podestà dà che morì poco dopo un anno un anno e mezzo dopo Walter Bonatti e quindi questa è stata la vita di questo grande uomo che va detto grande anche perché dal punto di vista fisico era eccezionale con tutto quello che lui ha vissuto attraversato tempeste di neve a meno 50 non ha mai riportato un congelamento o una mutilazione. Adesso però andiamo ad esaminare i due incidenti in montagna che hanno determinato il pensiero di Walter Bonatti. Non ve li racconterò in ordine cronologico ma partirò dal frenè. Nel 1961 e luglio Walter Bonatti, il suo amico Gioni, quello di Peleos e Gallieni decidono di conquistare il pilier del frenè appunto sul bianco ancora inviolato. Arrivati alla base scoprono che c'è anche una cordata di quattro francesi di cui uno appunto è Pierre Masot che anche loro avevano avuto la stessa idea. Siccome sono amici sia Pierre Masot che Walter Bonatti e si crea comunque una buona atmosfera decidono in grande amicizia e con grande senso sportivo di andare tutti insieme a conquistare questa cima. Estate, il tempo è buono, la cordata è fortissima, nel giro di un giorno e mezzo arrivano a 80 metri dalla vetta, se non che arriva una tempesta. Ora sul bianco si sa d'estate il tempo è abbastanza instabile ma si tratta sempre di cose che durano molto poco, se non che loro dopo un giorno e mezzo sono ancora inchiodati in parete in mezzo alle nubi, ai fulmini e ai lampi. Cosa fare? Hanno due possibilità, o aspettano perché insomma tutti dicono vabbè ma tra poco finisce che finisca la tempesta quindi perché sono 80 metri dalla vetta a salire e poi da lì scendere al vallò che era vicinissimo e quindi poi da lì chiamare i soccorsi eccetera eccetera piuttosto che calarsi giù di nuovo per da dove erano saliti e riattraversare il ghiacciaio. Ma non solo era molto lunga questa discesa ma per di più avrebbero trovato un ghiacciaio completamente nevato a grande rischio di valanghe. Allora tutti pensano, optano tutti insieme che comunque è meglio aspettare ancora un po' perché tanto prima o poi la tempesta deve finire perché l'estate più di un giorno, un giorno e mezzo non dura. Per farvela breve la tempesta dura sette giorni. I soccorsi sanno, ci sa anche Gary Hemming che cercherà di aiutare questi alpinisti. Non riescono a raggiungerli talmente impossibile appunto talmente le condizioni meteorologiche sono sono toste quindi alla fine loro opteranno poi di calarsi giù di attraversare il ghiacciaio e insomma di sette che erano se ne salveranno tre Walter Bonatti, Gallieni e Pierre Masot. Pierre Masot che era un medico e che poi diventerà un politico appunto quindi anche un membro del governo Chirac sarà grato a Walter Bonatti per tutta la sua vita, per tutto l'impegno che lui ha messo per cercare di salvare le vite di tutti. Tanto per darvi un esempio, quando appunto era già un ministro e seppe che Walter Bonatti era ricoverato in ospedale perché ne aveva combinato una delle sue, insomma era mezzo smaciullato anche se appunto rinasceva come la fenice dalle ceneri, ecco Pierre Masot annullò tutti i suoi impegni istituzionali e privati per una settimana intera e andò appunto accanto al capezzale di Walter Bonatti per occuparsi di lui e poi appunto si adoperò molto per fargli avere la legione d'onore. Quando nel 1961 Walter Bonatti insomma venne poi riportato a casa dopo questa tragedia perché lui era arrivato sfinito ai limiti della sopravvivenza anche lui, la stampa italiana lo etichettò come un assassino. Quando Walter ricevette la legione d'onore 40 anni dopo dice ecco io non mi aspetto che l'Italia mi dia il merito ma che almeno mi si tolga quest'aura di negatività e non venne mai fatto. Allora questo è l'incidente del franè ma andiamo a guardare la pagina più buia, la pagina più nera nella vita di Walter Bonatti, quello che successe sul K2. Cercherò di essere il più sintetica possibile, il più chiaro possibile, spero di riuscire nel mio intento. Allora nominerò soltanto quattro personaggi. Allora Ardito Desio, detto il Ducetto, il capo di spedizione, Lacedelli, il cortinese e compagnoni valtellinese, diciamo le due guide alpine di punta che erano state scelte da Desio per l'assalto finale alla vetta, Walter Bonatti e Unza, uno dei portatori che poi appunto partecipò alla tragedia. Allora cos'era successo? Al settimo campo che era già nella zona della morte, avevano deciso, io taglio un po', non erano proprio già Walter Bonatti e Unza, lo so, però per non perdermi in troppi nomi facciamo, semplifichiamo così, decidono appunto di stabilire, anche Condesi ovviamente era base, che si sarebbero stabiliti due altri campi, un ottavo campo e un nono, il nono sarebbe stato a quota 8.100, nel nono campo ci sarebbero dovuti essere soltanto Lacedelli e compagnoni per permettergli poi l'assalto finale alla vetta. Per questo motivo l'ottavo campo, dove loro ancora non erano, sarebbe dovuto essere ben fornito, anche con l'ossigeno. Per qualche motivo, perché insomma tutti erano mezzi malati, di fatto appunto gli unici sani e forti erano questi quattro che vi ho detto perché Desio era al campo base, si ritrovano con troppo peso da portare, quindi lasciano l'ossigeno al campo settimo e arrivano all'ottavo campo. Però Lacedelli e compagnoni hanno bisogno dell'ossigeno, per cui viene deciso che Bonatti e Unza scendono al settimo campo, prendono questi zaini contenenti soltanto l'ossigeno, zaini da 20 chili, ripeto siamo nella zona della morte, quindi una fatica bestiale portare uno zaino da 20 chili e li avrebbero portati al campo nono addirittura, quindi avrebbero saltato un campo. Per venirgli incontro allora si era deciso, si era concordato tutti e quattro che questo nono campo non l'avrebbero fissato così alto, magari insomma 100 metri di dislivello in meno, per aiutare questi due poveretti che comunque con questo zaino così pesante dovevano farsi più o meno un 600 metri di dislivello. Benissimo, allora Walter scende accompagnato, prendono questi zaini con dentro l'ossigeno, non hanno addosso nient'altro, né una tenda, né un saccapelo, né un fornelletto, né cibo e si accingono a risalire per andare verso questo nono campo. Sono un po' lenti e quindi insomma l'oscurità comincia a calare. Sono anche molto affaticati, la tentazione, scusate, di prendere l'ossigeno è forte, però Walter Bonatti è molto, che era il più giovane tra l'altro di tutti, questo era anche da ricordare, cioè Deso voleva degli alpinisti che fossero tra i 28 e 33, 35 anni, Walter Bonatti ne aveva 23, era giovane, questo è importante, era giovane, si affacciava alla vita, alle relazioni tra esseri umani con grande candore, con grande schiettezza, coerenza e correttezza, che questo sarà sempre il tratto caratteristico di Walter Bonatti. Comunque insomma Walter quindi sa che lui ha la responsabilità dell'ossigeno e sebbene siano molto affaticati e sebbene lui sapesse che se ne prendesse un pochino riuscirebbero a salire più facilmente, non lo fa. Arrivano dove ci sarebbe dovuto essere questo campo e non vedono assolutamente niente, l'oscurità comincia a calare, Walter estrae la sua torcia elettrica, se non che il gelo ha congelato le pile, le batterie e quindi non hanno luce, cominciano a chiamare, non risponde nessuno. Nel giro di poco l'oscurità è completa, Walter e Unza sono a 8000 metri di quota con niente tranne che due zaini pieni di ossigeno e non sanno che cosa fare, sono bloccati lì. Sono lì appunto nel buio quando a un certo punto poco più su si accende una luce dentro una tenda. Allora Walter comincia a gridare ehi siamo qua ma perché non vi siete fatti sentire prima, vi abbiamo portato l'ossigeno, abbiamo bisogno di aiuto, non abbiamo la luce. Al che pare che la Cedelli abbia risposto non vorrai che stiamo fuori tutta la notte a gelare per te, lascia lì l'ossigeno e torna giù. Walter cerca ancora una volta di spiegare che loro non possono, non hanno la luce, non possono fare niente, la luce della tenda si spegne e non esce più nessuno. Walter Bonatti e Unza sono quindi lì a 8000 metri di quota, ripeto, senza tenda, senza sacco a pelo, senza cibo, senza fornelletto, così, alla diaccia. E niente, li devono stare. Possiamo essere crudi? Possiamo essere molto chiari? Sono stati mandati alla morte? Ma... Allora, dunque, forte eh, questo pensiero. Comunque di fatto sono lì e non possono andare da nessun'altra parte. Si accingono quindi a fare questo bivacco in queste condizioni estreme. E come spesso per Walter Bonatti è una critica, non una critica, insomma diciamo un'osservazione alle volte seria, alle volte un po' scherzosa che le è stata mossa, perché lui ogni volta che compie un'impresa poi viene sempre travolto da condizioni drammatiche. Però è così. Scoppia una bufera a 8000 metri di quota. Unza comincia a impazzire dal freddo, cerca di buttarsi giù, Walter cerca di trattenerlo, insomma passano questa nottata atroce, alle 4 e mezzo del mattino comincia ad albeggiare, a questo punto Walter e Unza lasciano lì gli zaini con l'ossigeno perché continuano a non vedere la tenda e tornano giù. Tornano giù al campo, Unza perderà praticamente tutte le articolazioni, Walter Bonatti illeso e gli italiani, come sapete una pagina di storia, conquistano il K2. Scendono, grande festa, Walter Bonatti si è sentito tradito, abbandonato, avrebbe voluto capire che cosa era successo lì, perché si erano comportati così con lui. Desio fu terribile, gli disse questo momento della storia italiana non voglio avere grani, non voglio avere le storie, Walter Bonatti nella sua giovinezza e nella sua fedeltà al gruppo non disse niente e non disse niente per i futuri 10 anni, se non che 10 anni dopo compare un articolo di un giornalista italiano che riporta in occasione del decimo anniversario delle accuse da parte di compagnoni che sostiene che Walter Bonatti non solo avesse usato dell'ossigeno e quindi ne avesse lasciato di meno per la cedeglie e compagnoni, ma che soprattutto Walter avesse cercato un po' di scavalcarli, di fare una specie di impresa stile Herman Bull e quindi di arrivare per primo alla, come si dice, alla vetta del K2. Il CAI, nonostante Walter Bonatti fosse un membro appunto dell'accademico, non chiederà mai la versione a Walter Bonatti e fino adesso, quindi anche quello che aveva a disposizione il giornalista, erano negli atti degli archivi del CAI soltanto la versione di Desio. Ecco, all'uscita di questo articolo Walter Bonatti, tanto per esprimerlo in buon francese, si incazza perché ha detto ok, io sono stato zitto per 10 anni, però a questo punto così non va più. Quindi intenta una causa per diffamazione al giornalista, la vince e dice però a questo punto che la verità venga a galla. Ancora una volta non succede assolutamente niente. Bisogna aspettare 40 anni che per un caso nel 1994, un'occasione appunto del quarantesimo, un medico australiano Robert Marshall si mette al grande appassionato di montagna, comincia a sfogliare una rivista tedesca, quindi non italiana, che appunto celebrava l'evento e lì vede due foto. mai pubblicate in Italia, dove ci sono la Cedelli e i compagnoni in vetta con anche tanto di bombole d'ossigeno eccetera eccetera. Adesso io non sto ad addentrarmi nei tecnicismi, però quella foto lì smentiva chiaramente tutte le accuse che la Cedelli e i compagnoni avevano mosso contro Bonatti. Quindi questo medico riporta tutto alla ribalta, la stampa straniera si schiera ancora una volta, nel senso ancora una volta rispetto a quello che vi ho raccontato sul frenè, dalla parte di Walter Bonatti e in Italia? In Italia un bel niente. Bisognerà aspettare fino alla morte di Desio che arriva nel 2004, prima che il CAI allestisca una commissione interna che riveda tutta la conquista al K2. Il CAI a questo punto accoglierà finalmente nel 2004, dal 1954 al 2004. Accoglierà anche la versione di Walter Bonatti, diciamo tanti sui punti e quindi riformula le pagine della conquista dell'impresa del K2. Allora si può obiettare che nella zona della morte si perda un po' il senno, diciamo compagnoni non sarebbe stato l'unico, ormai lo sappiamo, insomma ci sono diverse documentazioni quindi magari ha risposto così o si è comportato così perché era un po' fuori di sé, però ecco insomma colpisce il suo commento, cioè il commento di compagnone all'età di 90 anni, quindi ormai con una grandissima distanza alle spalle che dice sono fiero di quello che ho fatto, ancora oggi il K2 è una montagna italiana, chi si crede Bonatti per gettare fango su degli eroi. Quindi anche questo secondo me è un dato. Allora chiudo qui questo lungo podcast, vi ringrazio per la pazienza ma credo che abbiate capito perché Walter Bonatti non si possa liquidare così in fretta e chiudo come sempre con una frase che secondo me è particolare. La frase di Walter Bonatti che vi sto per dire non è una tra le sue più famose, però è quella che secondo me spiega meglio le basi di quello che sarà poi il suo pensiero che vedremo meglio nel prossimo podcast. Allora lui scrive così commentando quello che successe sul K2. Simili esperienze segnano indelebilmente l'anima di un ragazzo e ne scuotono l'assetto spirituale ancora acerbo. Allora chiudo così questa prima parte su Walter Bonatti, vi ringrazio moltissimo per il vostro ascolto, spero che vi sia interessato, che vi sia stato utile, ma soprattutto spero di ritrovarvi al prossimo podcast. Grazie ancora per l'ascolto e buona lettura.